Come una scuola molto rinomata, ci sono molte compagnie che sono interessate al talento che esce dalla scuola. Una di queste è per esempio Apple, ci sono altre come Google o anche solo in Transportation c'è Ferrari che viene a vedere il talento che esce da quella scuola. Benvenuti in una nuova puntata di Umano, un podcast che parla di persone che hanno realizzato, che hanno inventato il lavoro dei propri sogni, oppure accanto a una professione apparentemente normale hanno deciso di inventarsi qualcosa di nuovo. Oggi con noi abbiamo un ospite che sono molto contento di avere perché non lo conosco tanto. E quindi è la prima persona che intervisto senza conoscere molto. Lui è un, ce lo dire a lui, Alessandro Stella. Prego, ciao Alessandro, come stai? Tutto bene tu? Molto bene, molto bene. Grazie di avermi ospitato qua. Ma grazie a te di essere venuto, anzi è un piacere averti qui. E quindi la domanda con cui parto di solito tutte le puntate è cosa fai nella vita? Allora, cosa faccio nella vita è abbastanza complicato, però devo dire che in teoria non mi piace definire il ruolo. Ok. Di solito dico che noto la realtà di tutti i giorni e la uso a mio vantaggio per raccontare storie o comunicare delle informazioni di persone o di clienti o di brand varie. Per cui in teoria il mio ruolo sarebbe direttore artistico o direttore creativo. E con quello in pratica sono iniziato da un certo tipo di percorso come designer. e fino ad arrivare a un punto dove adesso sto costruendo i miei team per lavorare su diversi progetti. E con quello incominci un po' a capire come creare una certa cultura dentro al team con le persone che hai per riuscire a combinare dei messaggi o comunicare delle cose attraverso diversi strumenti che possono essere la grafica, possono essere fotografia, può essere video, musica. Per cui varia molto. Però diciamo che come collezione di strumenti varia sempre. Però in teoria come direttore artistico riesci sempre a trovare lo strumento migliore per comunicare un messaggio. Ok. Quindi lavori con, immagino, con aziende oppure come dicevi tu prima, con brand, giusto? Esatto. Ok. Ma come nasce il tuo percorso? Nel senso, hai accennato che sei nato come designer e ma hai studiato in Italia? No, ho studiato in America. Attenzione. Quindi ma cosa vuol dire? Sei, allora, sei andato in America dopo il liceo, sei già fatto il liceo in America? Spiegaci un pochettino. Allora, dal liceo, ho finito il liceo che era stato un anno abbastanza duro perché non riuscivo mai a connettermi con magari alcuni studenti della scuola o con i miei amici, non sapevo mai che ruolo avevo nella, diciamo, nella struttura italiana. Ok. Quindi hai fatto il liceo in Italia? Ho fatto il liceo in Italia. E da lì però sono andato anche a un liceo abbastanza particolare di aeronautica. Ok. Che non era, diciamo, il mio interesse principale, per cui sono arrivato ad un punto alla fine della scuola dove magari alcuni miei amici erano molto portati per quel tipo di carriera e mentre io ero sempre un po' nell'ambito un po' più artistico. nasco da una famiglia che è molto artistica, mia mamma è una illustratrice, mio zio è un fotografo, tutti, mio nonno e mia nonna sono pittori o illustratori anche loro e poi però i miei sono separati e ho sempre avuto questo più una parte imprenditoriale dalla parte di mio padre, per cui c'è sempre stata una, diciamo, una sfida e una challenge tra le due parti di come affrontare il discorso della carriera, perché da un punto di vista artistico, ho sempre visto, essendo cresciuto più con mia mamma per la prima parte della mia vita, ho sempre avuto un'idea che fosse una roba molto difficile da riuscire a portare avanti come un business e poi dalla parte di mio padre invece vedevo una carriera magari un po' più definita e che magari si allineava più con gli standard diciamo italiani di una carriera e sempre con i miei amici non riuscivo mai a capire dove ero, per cui mi ero sempre interessato di disegnare, mi ero sempre interessato di tantissimo tatuaggi, ero sempre un po' alla ricerca di interessi magari fuori dal normale e quando ero ragazzo mi piaceva un casino andare in skate e ho fatto il primo viaggio in america con mio padre per un mese, un mese e mezzo Che età avevi quando hai fatto il primo viaggio? Avevo 16 anni Quindi prima del liceo, prima di tutto il tuo percorso? Durante il liceo ho fatto questo mese, mese e mezzo nel periodo estivo dove abbiamo girato un po' di stati e di città e io lo vedevo sempre come un punto di di riferimento appunto perché con con la cultura dello skate c'erano tantissimi diciamo luoghi spot dove dove potevi scrittare che erano molto famose attraverso video e a quel tempo ovviamente non c'era la cultura di youtube o di comunque internet non è ancora molto sviluppato da quel punto di vista per cui era sempre difficile trovare punti d'incontro qua in italia. Certo ritrovarsi lì invece in una cultura magari di quella dello skate già avviata già parlavamo abbiamo avuto ospite Paolo che è un si parlava lui parlava del basket di strada però quindi dei campetti e lui diceva c'è tutta una sottocultura in qualcosa che è molto radicato quindi vedere un qualcosa la che qui ancora non c'era sicuramente apre gli occhi certo. E per cui da lì ho incominciato all'ultimo anno del liceo di capire un po' cosa cosa volevo fare e ho trovato questa scuola che mi aiutasse innanzitutto ad avere una prima esperienza negli Stati Uniti con il visto e poi soprattutto di iniziare a vedere magari una traiettoria dove mi potesse aprire porte per entrare magari in un college in America. Perché scusami se ti interrompo come funziona nel senso se tu sei studente hai il visto e quindi puoi rimanere per tutti gli anni di studio? Sì in teoria ci sono dei se entri in una università in una scuola ti danno questo visto temporaneo che dura per determinato corso e durante il quale le diciamo le le parti che non sono molto definite il fatto che magari quando è finito il liceo di solito puoi andare all'università e incominciare a lavorare anche così da sostenerti mentre con gli Stati Uniti è strettamente solo da studente per cui è molto difficile trovare un lavoro non si potrebbe neanche trovare un lavoro e per cui è complicato bisogna avere un po sbattersi un attimo a vedere le le opzioni possibili in quella in quel periodo per cui da dice da quando avevo 18 anni sono partito e ho trovato questa scuola che aveva una una sede a Santa Barbara e Santa Barbara è per farti un'idea del territorio è un po più in alto di Los Angeles a circa un'ora di distanza è una cittadina di surfisti e di skateboarders quindi eri un abitato naturale sono andato con l'idea sì di iniziare un percorso di università ma ovviamente la passione e l'interesse era lì per cui appena ho visto Santa Barbara che avevo oltretutto già visitato il viaggio prima sapevo già dove era lo skate park sapevo già dove erano tutti i luoghi che volevo visitare e la prima cosa che ho fatto è di vedere ok da da questo pullman alla host family che è la famiglia che mi ospitava ok fino allo skate park posso farlo in skate posso andare col bus giustamente ci si organizza esatto e da lì ho incominciato un percorso con questa scuola che era solo una una parte per riuscire a trasferire i miei crediti da da un sistema italiano quello americano e poi entrare in una diciamo un college che si chiama ci sono due tipi di college in america c'è il community college e il college normale che cosa allora il community college in pratica è come se fosse più o meno una laurea breve in italia credo magari un po' di meno sì magari un po' di meno di quello nel senso che è una è un college che in america si utilizza molto per persone che magari non hanno ancora idea in specifico di cosa fare ma allo stesso tempo possono incominciare a creare crediti per utilizzare poi in una major in un indirizzo di università che poi vorresti fare più avanti questo ti dà l'opportunità di per esempio prendere classi o corsi in italiano di diverso tipo per cui puoi prendere magari hai inizi con un indirizzo magari scientifico però alla fine capisci che sei molto interessato alla musica e allora a quel punto prendi continui dal tuo indirizzo scientifico ma prendi magari un corso in musica o qualcosa del genere ok per il sistema proprio diverso sì 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 è molto pratico diciamo questo questo tipo di college che è un college che soprattutto costa anche molto di meno ti aiuta ad aprire un po' le porte a varie cose e avere un po' più di esperienza pratica sulle cose per esempio molti corsi generali come ho preso biologia o zoologia molte parti di zoologia andavo proprio nel deserto con con la classe vedere come i nativi americani super c'è una super esperienza esatto sì ti danno molta è molto teorico le prima la prima parte dei corsi e poi arriva proprio in pratica alla fine per cui è molto interessante e io ero entrato con questa idea di fare graphic design ok quindi già improntato su quello che era il lato artistico sì perché prima di partire per gli Stati Uniti mi ero consultato con mio mio zio che era fotografo ma fa fotografia e web design e lui mi ha detto guarda magari se non sei proprio così improntato su solo fare un indirizzo diciamo di arte in sé puoi magari incominciare a direzionarti verso qualcosa che è un po' più sulla parte magari imprenditoriale se sei di tuo conto e in più hai una parte artistica e creativa allo stesso tempo per cui ho incominciato a vedere graphic design però il mio focus sia la graphic design e fotografia c'è un altro istituto a Santa Barbara che è il Brooks Institute che è molto famoso per fotografia e ero un po' indeciso alla fine sono andato con l'opzione che mi dava un po' più di apertura e di range per avere più corsi in diverse materie diciamo e da lì ho continuato a fare il mio indirizzo di design e allo stesso tempo ho incominciato a vedere come trasferire i miei crediti di quella scuola a un college di 4-5 anni per cui con questo community college danno un'opzione di avere una AA si chiama Associate Degree che è in pratica una laurea breve in pratica e poi di trasferirti per avere un bachelor che invece è la laurea non so come si dica in italiano però un master è un dopo laurea è una laurea in sé non saprei molto come definirla un po' un sistema diverso è sempre sotto il master comunque ok sarebbe magari una laurea noi in Italia c'è laurea triennale magari laurea quinquennale probabilmente magari più vicino a una laurea cinque anni ok sì perché con quel community college la cosa importante è che poi questi anni che hai diciamo speso in questo college non li andrai a riaffrontare in un college in una laurea quinquennale certo ti porti gli esami che hai già fatto li riporti poi nell'altra università ok e c'erano due scuole che erano molto interessanti una è la Call Arts che è una scuola a Valencia che è un po' dentro alle valli di Los Angeles ed era la scuola che è stata costruita da Walt Disney ok questa scuola è molto famosa per illustratori molto famosa per performance e diciamo è uno dei punti di innovazione e di talento puro per questo tipo di illustrazione o comunque sempre Walt Disney o Pixar la maggior parte delle persone che lavorano lì vengono da Call Arts sono passate da qui ok il punto di vista di design è il fatto che è un design molto più sperimentale nel senso che è design in graphic design cioè sempre quando sei in un periodo di studio è sempre visto da un punto di vista più commerciale è un punto di vista più di esplorazione e più culturale diciamo per cui ero un po' tentato perché il mio interesse è sempre di più è sempre di più quello più concettuale però per mia sfortuna diciamo col fatto che sono un immigrato alla fine negli Stati Uniti devi anche tener conto che dopo la laurea devi avere un lavoro perché sennò il tuo visto non viene rinnovato non puoi trasferire a un visto più lungo quindi nel tuo caso c'era la possibilità di cioè il tuo visto valeva soltanto per gli anni di studio ma poi avevi poco tempo quanto tempo avevi? hai un anno di tempo beh tutto sommato beh io non so i tempi americani però una cosa fattibile ma un tipo di lavoro di che tipo nel senso? esatto perché è quello il problema è sempre un il problema è che con se sei uno studente internazionale soprattutto diciamo per una parte più artistica e creativa arrivi da un bachelor di fine arts il problema è che non ci sono molto incentivi dal governo per darti una possibilità di restare o di proprio dal punto di vista burocratico è molto più difficile di un indizio più scientifico magari di ingegneria quindi nel tuo caso hai fatto diciamo la scuola quella più collegata a Walt Disney e poi? no invece stavo scegliendo quella esatto ero entrato anche in quella lì però poi ho trovato quest'altra scuola che si chiama Arts Center College of Design che è la prima primo college nel mondo di design quindi plot twist sei andato dall'altra parte prima sono andato a vedere quella di Walt Disney e devo dire che mi era molto piaciuta però a quel tempo magari perché ero in una fase dove facevo molto skate molto surfing ero molto diciamo hippie in quel periodo non sentivo che c'era abbastanza struttura per me per riuscire a essere un po' più focalizzato sui miei obiettivi mentre quando sono andato a Arts Center in Pasadena che è una diciamo una parte di Los Angeles più sulle colline quella invece è molto più stile Bauhaus molto più moderna come 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 filosofia e per cui ha molti indirizzi molto più commerciali o più indirizzati all'industria e per cui trovi product designers trovi transportation per cui design di macchine poi trovi illustratori fotografia graphic design interactive quindi è più centrata anche proprio per il mondo del lavoro ti butta di più nel mondo del lavoro e poi diciamo che anche dove è posizionata essendo nelle colline sembra proprio come se fosse una specie di di hub per i designers per per esserli dentro e incominciare a creare diciamo il tuo percorso e la cosa che è molto interessante è che è collaborativa nel senso che con i tuoi corsi trovi anche persone di diversi dipartimenti che sono nel nel tuo nella tua classe e incominci magari a fare dei progetti e poi capisci che magari il tuo il tuo amico è bravissimo in fotografia e ti può aiutare a documentare magari il tuo progetto e quindi il fatto di avere subito una collaborazione sarà utile poi anche dopo nel mondo del lavoro esatto nel tuo caso hai finito quindi hai fatto quanti anni sono questo corso? per cui questo corso in teoria sono quattro quattro anni io l'ho fatto in due anni e mezzo tre perché avevi già fatto perché avevo già fatto quello ma oltretutto la mi sono dato un po' da fare nel senso che durante i semestri hai un determinato di credit di determinato tipo di credit e numero di crediti che devi avere per sostenere il tuo visto però se tu riesci ne puoi fare anche di più per cui se riesci a fare più crediti ovviamente la scuola la puoi finire prima certo io quando sono arrivato alla scuola ero molto determinato di ok adesso mi metto con la testa a posto e voglio trovare un lavoro che mi riesca a sostenere subito dopo la scuola e quello mi ha portato anche solo dal punto di vista di collaborazione o di amicizie ho individuato un gruppo di studenti o un gruppo dentro la scuola che era molto determinato nel lavoro e per cui ci siamo messi assieme sono riuscito magari loro in un anno in avanti sono riuscito a raggiungerli al tempo della laurea perché non mi sono preso diciamo l'estate e invece ho continuato a studiare ho continuato a prendere classi anche durante l'estate per cui sta un po' a te però è molto c'è molto libertà in quel senso perché ti aiuta un po' a giustarti gli orari e il tipo di studio che vuoi fare se vuoi prendertela un po' più alla leggera diciamo anche se non è una scuola leggerissima puoi farla diciamo e poi il fatto di essere arrivato filli nel senso se parto dall'Italia vado a studiare in America prenderla con lo spirito giusto sicuramente aiuta a arrivare a un obiettivo questa cosa è una cosa che ti fa onore sicuramente il fatto di aver avuto una determinazione giusta sì ho trovato persone che magari hanno incominciato con me scuola non questa scuola ma magari quella Santa Barbara di altre nazioni o italiani ma vedevo che lo spirito era diverso magari solo di fare un'esperienza per un po' di tempo e poi tornare in Italia e incominciare magari una carriera un po' più diciamo normale nel senso di traiettoria per me è sempre stato voglio cercare di trovare qualcosa che che posso costruire da me nonostante le difficoltà che poi molte delle difficoltà erano più dal punto di vista burocratico di come stare in America e come affrontare la vita da studente lì perché anche dal punto di vista del portfolio di come avanzi nel tuo curriculum c'è anche il fatto che siccome è una scuola molto rinomata ci sono molte compagnie che sono interessate al talento che esce dalla scuola una di queste è per esempio Apple e ci sono altre come Google o anche solo in transportation c'è Ferrari che viene a vedere il talento che esce da quella scuola per cui c'è molta ci sono molte industrie che sono interessate al talento di quella scuola di come esce e il punto per me è il fatto che essendo uno studente internazionale il fatto era di avere un appio per quelle determinate corporazioni che potevano impiegarti ma soprattutto sponsorizzare il visto successivo perché il visto successivo è un visto da business per cui è un visto che deve avere un supporto anche economico e quello deve essere fatto solo attraverso una società certo ma quindi tu finisci il tuo percorso di studi e entri nel mondo del lavoro quindi qual è stato il tuo primo lavoro in America che ti ha consentito di come dicevi adesso supportare il mio visto il tuo visto allora il primo lavoro che ho fatto in America in realtà è direttamente dentro la scuola nel senso che ero un assistente ai professori e questo ti bastava dare il visto allora era perfetto perché per il visto se eri dentro all'organizzazione alla scuola avevi un determinato tot di ore che potevi fare all'interno per supportarti diciamo che ne erano tantissimi soldi sicuramente non mi riuscivo neanche a coprire il costo dei progetti che facevo all'interno della scuola però ti danno un attimo di non so anche aiuto a creare magari relazioni con altri studenti o magari con i professori tanto è che nel mente di quello avevamo cominciato a lavorare avevamo cominciato ad aiutare anche il mio professore al di fuori della scuola con diversi progetti nel suo studio in quel periodo ho fatto era arrivata la Apple alla scuola per fare una presentazione e di solito è molto segreta come cosa nel senso che alcuni studenti sapevi ricevano delle email da da organizzazioni e gli altri invece no gli altri invece no c'era già una preselezione già anche senza un invito esatto magari erano professori che mandavano un email ai recruiters di quelle compagnie e per cui ti arrivavano queste email io ho ricevuto un email dalla Apple diciamo due settimane prima che venissero lì in scuola per fare un intervista un colloquio e allora ho fatto questo colloquio con tre dipartimenti della Apple diversi e il mio stato mentale in quel periodo era molto combattuto nel senso che il lavoro di design che mi piaceva era molto più dal punto di vista magari culturale più associato design di libri o design con determinate culture di Los Angeles o fare design con musicisti o artisti molto più diciamo culturale ma che ovviamente porta un budget molto più ristretto certo rispetto a chi invece lavorare per quello quindi e soprattutto non mi avrebbe aiutato anche dal punto di vista del visto anche quello per cui nel mento del mio curriculum devo cercare di soddisfare le mie richieste di interne di essere comunque di avere la felicità di avere un po' di passione in quello che facevo allo stesso tempo bilanciare il mio portfoglio per essere un po' più interessante per quel tipo di società la cosa importante nel tuo caso immagino è trovare la media tra il fatto di da un lato avere un'esigenza reale che era quella di poter andare a rinnovare il visto il poter rimanere in America da un altro lato c'era comunque un'altra esigenza reale che era quella di potersi sostenere economicamente e poi fare anche qualcosa che ti appassionava esatto e quello è sempre stato il punto cruciale nel mio nel mio nel mio studio perché è sempre stato il punto che con cui discutevo con molti miei professori perché oltre tutti i professori all'interno della scuola sono tutti i professori che lavorano nell'industria anche adesso per cui sanno un po' sanno esattamente come l'industria e il business e sono professori che sono molto sono stati molto intelligenti da quel punto di vista cioè hanno anche loro la passione magari da un punto di vista più concettuale e culturale però sono riusciti a fare un business a creare un appio che riescono anche a ad arrivare a essere interessanti per la società del genere per cui io sono sempre stato più a spingere la mia passione e devo dire che con il colloquio dell'Apple è stato un punto a mio favore perché con tutti gli altri con tutte le altre persone che hanno fatto il colloquio ero stato l'unico a fare colloquio con quattro dipartimenti diversi che mi volevano tutti e sono riuscito e alla fine mi hanno preso per quello di marketing e communication beh super adesso immagino la soddisfazione si mi ha dato un attimo di sollievo anche dal punto di vista di magari avere una prospettiva futura dopo la scuola e per cui da quello mi hanno preso per fare un internship si dice uno stage alla Apple di sei mesi e per cui ti portano ti danno alloggio invito alloggio a Cupertino che per darti un'idea Cupertino è 45-50 minuti da San Francisco e nella nella Silicon Valley alla fine quindi sei stato in quelle l'edificio circolare che si vede su YouTube e tutti guardiamo con gli occhi a cuoricino ok avevo un ufficio lì e un ufficio in un altro edificio però diciamo che ho lavorato e ho vissuto nella Silicon Valley per 4 anni 4-4 anni e mezzo ed è stata un'esperienza molto interessante perché ti dà un'apertura mentale e di concezione di cosa vuol dire lavorare in una cultura che è molto differente da altri magari lavori o altre concezioni di strutture anche dal punto di vista della corporazione di società e all'inizio ero un po' sulla difensiva quando sono arrivato e i miei primi i miei primi giorni ho cominciato a vedere che invece il talento che era dentro la Apple era un talento che era completamente diverso dalla mia concezione di prima che magari erano più dal punto di vista commerciale cosa intendi cosa vuol dire l'idea che magari le persone hanno dell'Apple è un'idea che il design è molto strutturato molto con la template di come si fanno le cose ok molto fissa come concezione ok e il talento che pensavo fosse all'interno fosse molto diciamo fissato su quelle traiettorie su quelle su quel tipo di 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 viaggio dal punto di vista di design e invece ho trovato completamente l'opposto ho trovato persone che magari non avevano neanche iniziato come designers e alla fine la loro passione li ha portati a fare quel tipo di lavoro sono stati ingaggiati in quel tipo di dipartimento e oltretutto mi ha aperto la strada a capire che graphic design era più solo come uno strumento a mio vantaggio invece di un prodotto d'arrivo e di di rifinitura diciamo nel senso che quando tu pensi alla tua professione molte volte la pensi come ok adesso sono un designer e quello che faccio è questo e punto e basta e invece ho scoperto che soprattutto quando incomincio a ingranare con ruoli un po' più di esperienza e di responsabilità incomincio a capire che quello con cui sei arrivato è solo un bagaglio che ti porti per riuscire poi ad esplorare altri soggetti altre altre parti magari di design o altre parti di qualsiasi passione tu abbia sono sempre rilevanti nel lavoro che tu puoi fare all'interno della compagnia diciamo ma io c'è questa cosa in Italia purtroppo c'è poco io vabbè non lavoro all'interno di una società quindi come quindi sono un libro professionista quindi ho un pochettino di più la possibilità di toccare quello che tu stai dicendo però mi accorgo che il fatto che io faccia un lavoro quello è in Italia è molto definita questa cosa mentre invece al di là dell'ambiente Apple che diciamo è una parte pensi che a livello americano ci sia proprio questa cosa cioè il fatto che se sai fare una cosa se sei appassionato se sei orientato in una direzione ti permettono di esplorarla cioè l'azienda ti permette di esplorarla sì ci sono molti molte occasioni per te per crescere dentro al ruolo e se hai voglia di fare e se hai voglia di metterti in gioco ci sono molte opportunità per te per crescere all'interno della compagnia ma soprattutto di crescere come 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 persona anche per cui per esempio magari c'è un'opportunità puoi richiedere corsi di all'interno del del tuo dipartimento puoi richiedere se magari c'è un budget per un progetto che vuoi fare all'interno ci sono molte opportunità di quel genere perché loro le vedono la società le vedono più come un investimento delle persone che loro hanno già all'interno che sanno già come la società lavora è un investimento alla fine che fai come se tu facessi un investimento fisico diciamo del tuo stabilimento certo di cambiare i microfoni con cui stiamo parlando adesso solo per avere una qualità migliore alla fine è quello il senso e credo che sia un atteggiamento bellissimo a quel punto di vista perché ti dà l'opportunità di esplorare cose che magari prima semplicemente non avevi per cui quando avevo iniziato per esempio una cosa che non avevo mai toccato o che avevo visto solo quando ho fatto un po' di assistente a fotografia con mio zio è magari il punto di vista dei shoot fotografici su un prodotto dici? su un prodotto o su come fare il lighting dei prodotti ok sia dal punto di vista di CGI e 3D che dal punto di vista fisico per cui con uno shoot fotografico per esempio ci sono molte parti che si muovono come ad esempio devi fare il casting dei modelli con il prodotto devi vedere che prodotti vuoi mettere devi incominciare a capire che materiali sono nel prodotto per riuscire a capire che tipi di luce vuoi utilizzare o per esempio se hai una direttiva dalla brand per cui per esempio con Apple c'è l'opportunità di di molte direzioni artistiche che si possono esplorare però diciamo c'è sempre un brief da seguire per cui una volta che fai il casting e trovi il fotografo giusto per quel determinato prodotto poi incominci a lavorare sia dal punto di vista magari digitale in tandem fai anche quello fisico per riuscire a capire cosa estrapolare e magari a ricercare la perfezione nell'irregolarità o nell'imperfezione pura e quella è una parte che a me è piaciuta tantissimo che magari dà un percorso prettamente di graphic design per cui tipografia lavorazione di immagine design di libri e queste cose ero molto ristretto come diciamo mentalità mentre quando sono arrivato all'Apple ho capito che quelli sono strumenti che poi mi aggiungono un'attitudine critica per riuscire a mettere in un altro settore che magari non è stato ancora esplorato per cui quello dal punto di vista di lighting dei prodotti era una cosa che mi aveva molto appassionato e quello infatti da quando ero uno stagista continuavo a chiedere ma posso andare all'off shoot fotografico con queste persone perché mi piacevano un casino mi diceva sì dai mi facevo portare magari da un direttore artistico anche se magari devo lavorare su un progetto interno dell'Apple per il mio per la mia per il mio periodo lì cercavo sempre di di farmi mettere in quelle in quelle situazioni semplicemente perché mi piaceva mi piaceva tantissimo anche dal punto di vista di non stare solo al computer che è una cosa che c'è tanto nel mio lavoro ma cerco sempre di di avere degli altri outlet che sono molto più primordiali un contatto anche proprio con le persone immagino con le persone o di applicazione di qualche tipo per esempio io credo che con la mia attività è importantissimo avere degli altri interessi al di fuori di solo graphic design sono molti dei miei amici che sono designers bravissimi ma magari hanno un'attitudine che è prettamente solo di design e per me io amo scultura amo arte e fotografia sono cose che ricerco sempre al di fuori della mia diciamo della mia del mio lavoro per riuscire a darmi una prospettiva e un'ispirazione diversa magari dalla dalle persone con cui lavoro certo prendere spunto per poi riportarlo ancora nel progetto che stai seguendo ma oggi invece dicevi lavori per Apple mentre invece sei più tornato in Italia se hai avuto la possibilità di lavorare invece con brand italiani e quindi vedere la differenza se c'è una differenza magari tu mi dici no non ne ho idea ma devo dirti che dal punto di vista di lavorare con aziende italiane l'ho fatto più in questo ultimo periodo che ho lasciato la Apple dove mi sono messo magari un po' più in gioco dal punto di vista di come libro professionista ok perché ero arrivato a un punto dove non riuscivo a vedere più era diventato una parte più avevo capito benissimo il lavoro di come era strutturato come fare le cose e vedevo solo una crescita in ruolo e magari dal punto di vista economico ma non necessariamente dal punto di vista di cosa potevo fare o imparare certo altro che diventare un manager del diciamo del dipartimento e fare più robe di ufficio di come organizzare tutto il lavoro all'interno per cui sono cose che pensavo già come un pensionato quasi cioè dal punto di vista di ok so che il lancio dei prodotti è con questo keynote so come fare tutto il lavoro so come è il processo so esattamente con chi parlare come parlare con quelle persone e mi ero un po' avevo un po' di paura internamente di non crescere più da quel punto di vista tra l'altro non te l'ho neanche chiesto ma qui è in influente però quanti anni hai? ho 29 anni ok quindi tutto il lavoro tutto quello che stai dicendo di crescita personale è più che comprensibile non faccio un lavoro di un pensionato a 30 anni no sì è anche il fatto che ero uno dei più non uno dei più giovani però diciamo nel mio gruppo perché alla fine io sono andato a fare lo stagista alla fine il gruppo che ti dicevo nella scuola con cui abbiamo cominciato a lavorare siamo tutti andati all'epoca alla fine beh quindi ero un gruppo di lavoro super valido perché se no tutti quelli della mia scuola me li sono ritrovati come i miei colleghi alla fine e alcuni stanno ancora lavorandoli e niente per cui la crescita era era interessante fino a un certo punto finché non ho visto che le persone magari con cui interagivo erano veramente persone che magari erano all'epoca da 15 anni e avevano ovviamente un approccio un'attitudine diversa per il lavoro nel senso era più un lavoro che ti dà stabilità è un lavoro molto interessante però da un punto di vista della vita proprio di come il stile di vita ti dà una sicurezza che è incomparabile con qualsiasi altro lavoro per cui mi sentivo un po' ristretto in quel senso di magari non mettermi anche se mi ero messo in gioco per arrivare a quel punto di non rimettermi in gioco per trovare magari altre cose che mi sarebbero piaciute per una crescita più personale non era più una cosa aziendale ma personale mi dicevi appunto del fatto invece delle aziende italiane ci hai parlato scusami hai iniziato a lavorarci ora sì da poco sì devo dire che è molto diverso anche il punto di vista di interazione non so qua una cosa stupidissima che ho visto è l'utilizzo del telefono qua anche solo di whatsapp per parlare con i clienti o le cose per esempio in america è molto strutturato nel senso che hai inizi in america si dice 9 to 5 job cioè dalle 9 alle 5 quello è il lavoro o comunque all'apple non era mai purtroppo solo quelle ore però sai che nessuno ti risponde fuori da quelle ore e tutti sono collegati su una piattaforma interna della compagnia in america si usa slack per esempio che è questa piattaforma messaggistica però nessuno si si suona di chiamarti sul sul telefono personale o comunque puoi non rispondere nessuno ti scrive messaggi o cose così almeno che non sei su quella piattaforma certo è un credo che sia a me piace molto perché ti dà un distacco dal punto di vista lavorativo di dire ok spengo il computer basta sono tranquillo adesso non ho disturbi di nessun genere mentre qua è un po' più devo ancora abituarmi al modo di lavorare italiano è molto più colloquiale è molto più casuale come interazione mentre magari anche perché lavoravo all'apple è molto più all'apple era molto più professionale molte volte mi sembrava di magari essere in uno studio proprio da diciamo dentistico c'è una roba proprio pristina anche se però le persone sono assolutamente socievoli ed è una cultura molto interessante però diciamo il modo di interagire è diverso forse forse avere un modo di interagire diciamo normato e non meno personale aiuta come dicevi tu il fatto anche solo di staccare dal lavoro qui è una cosa che non dico non si fa ma soprattutto se poi sei un libro professionista se qualcuno ti chiama alle nove se è lavoro rispondi forse però è una cosa reale anche molto difficile come dicevi tu staccare dal lavoro e ce n'è bisogno poi diciamo che faccio anche un lavoro che è molto remoto è ibrido adesso è molto digitale come lavoro per cui ti dà quella libertà che con altri lavori ovviamente non hai e per cui quello è un pro di essere magari in questa industria di design ti dà l'opportunità di di avere una di collocare tempo e energie dove vuoi diciamo che prima quando ero all'Apple e andavo in ufficio sentivo che molte volte magari non davo il mio 100% ma solo perché ero in ufficio e c'era troppa c'era troppo disturbo di qualsiasi genere c'erano troppi riunioni durante il giorno e alla fine arrivavo che non avevo il tempo di lavorare in sé per cui magari andavo a casa e finivo di lavorare sulle cose che dovevo lavorare per cui quando ho iniziato il lavoro più ibrido ho invece sono riuscito molto di più a performare in modo più attivo sui miei progetti e avere e avere un'idea più più chiara di come potevo strutturare il lavoro e i miei progetti in un processo creativo molto più lineare prima era giorno per giorno mentre quando lavoravo da casa riuscivo a vedere magari da qua a un mese a come il mio progetto si potesse sviluppare avevo più tempo di riflettere proprio sui progetti e poi il fatto che non ci fossero interruzioni esterne sicuramente il fatto che tu a decidere come gestire un tipo di lavoro è sicuramente utile sotto questo punto di vista e ora invece quali sono i tuoi progetti futuri nel senso che sei tornato in Italia oppure più o meno non lo so adesso sono un po' in uno stadio transitivo nel senso che ho lavorato per un po' di start up prima della fine dell'anno scorso sempre in tech ma in industrie diverse come per esempio l'ultimo che ho fatto è musica e ti danno mi hanno dato anche un'idea di come magari una società molto più piccola rispetto alla Apple possa lavorare per cui il modo di lavorare era molto più disordinato il che mi ha dato mi faceva anche piacere in un senso perché ti dà l'opportunità di capire come magari strutturare il tempo del tuo team in modo diverso magari essere un po' più casuali nelle interazioni con le persone mentre adesso che ho finito di lavorare con loro con il mio contratto adesso sto pensando di tornare in Italia perché ho dei progetti interessanti con alcune brand qua e soprattutto di avere uno stile di vita magari un po' più sedentario anche perché è oramai da 11 anni che sono sono via dall'Italia e ho bisogno di sentirmi un po' più a casa proprio di sentirsi un po' più di sapere magari in sei mesi dove sarai e di avere un'idea che dove metto la mia sedia il mio tavolo il mio divano saranno sempre lì e riuscire un attimo mentalmente a essere più tranquilli da quel punto di vista perché l'idea del lavoro in America è che il lavoro non finisce mai cioè sempre va sempre avanti e non ci sono in Italia ci sono molte festività certo invece l'oro di meno per cui è proprio uno stile di vita diverso si pensa molto di più ai soldi a come creare il tuo il tuo gruzzo per quando inveccherai e si pensa sempre a quello e a un tipo di carriera che vuoi fare a come puoi crescere dentro la compagnia come puoi crescere nel tuo ruolo e invece qua ho notato che il lavoro è una parte della vita ma non deve essere la cosa principale che su cui ti vuoi focalizzare magari ci sono altre cose più importanti è una una visione assolutamente differente il fatto che tu la veda da un punto di vista che tu guardi se non so se riesco a dire bene quello che ho in niente ma il fatto che tu riesca a vedere la visione dell'Italia da un punto di vista esterno e che per la tua esperienza personale ti piace di più è secondo me una cosa fantastica perché noi invece che viviamo qui abbiamo sempre vissuto qui tante volte facciamo fatica ad accorgerci delle delle potenzialità di quello che stiamo vivendo quindi questa cosa è secondo me bellissima sì diciamo che anche per farti un esempio ho avuto molti colleghi che hanno proprio avuto stress mentali e stress sì proprio burnout fisico e anche io nello stesso modo ma perché gli orari di lavoro erano diventati insostenibili e anche il fatto che è anche un'atmosfera molto competitiva soprattutto nell'industria in cui lavoro e in cui ho lavorato per esempio nella Apple è molto collaborativa ma è competitiva allo stesso tempo e ti fa pensare di per esempio ogni anno hai reviews sì hai delle performance e sono molto devi veramente pensare a cosa cosa vuoi ottenere da quel lavoro e per ottenerlo devi pensare a una strategia di di come appunto eseguirlo certo e mentre qua mi piace l'idea di avere anche solo uno stile di vita che sia più focalizzato su il vivere e non solo lavorare per esempio nella Silicon Valley una cosa che mi mancava molto anche solo da spostarmi da Los Angeles a Cupertino era il fatto di non avere un posto dove potevo fare una passeggiata fuori di casa e non sentirmi che ero in mezzo a grattacieli o in mezzo a aziende gigantesche dove le strade sono a sette corsie e ti senti che stai camminando di fianco all'autostrada ogni volta e sono cose che sono piccole ma mano a mano si incominciano a pesare sul modo in cui vivi e incominci a veramente a realizzare e a domandarti se ma io sono qui perché solo per il nome magari di una compagnia o sono qua solo perché magari ho fatto troppo sforzo per arrivare a questo punto per poi buttarlo via però se alla fine non ti senti sollevato non ti senti felice di quello che fai in quel senso allora ti devi fare due domande e alla fine quello è stato il mio punto di ritrovo un po' con me stesso di realizzare che magari era tempo solo di esplorare cose nuove e di magari mettermi un po' più in gioco in una situazione dove magari ero un po' più tranquillo e sedentario dal punto di vista lavorativo della carriera per cui quelli sono i punti in cui sto lavorando adesso per vedere come realizzare quest'altra parte che voglio esplorare è fantastico io Vale ti ringrazio tantissimo per essere stato qui hai portato una visione nuova e una visione differente rispetto a quella che di solito che trattiamo in questo podcast o abbiamo trattato fino ad ora io ti auguro tantissimo invece di riuscire a realizzare questo tuo nuovo percorso un percorso lavorativo e accanto un percorso di vita molto importante anche perché sei giovanissimo hai la mia età e quindi è una cosa che auguro assolutamente a tutti questa puntata potete trovarla sia su Spotify sia su YouTube sia su Apple Podcast che tutti i vari le varie piattaforme e io vi ringrazio tantissimo per averci dedicato il vostro tempo e ci vediamo in una prossima puntata di Umano grazie grazie mille grazie a te è stato un super piacere grazie a te grazie a te grazie a te grazie a te